Ma come è naturale si vorrebbe tutto e l'inverso di tutto. Bisogna arrivare a dei compromessi e anche qui a delle armonie. Stakhanov non serve più. Stakhanov serve forse alla Cina per produzioni semplici, per lavori su cui noi non possiamo essere competitivi. A noi occorre anche la cicala del buon La Fontaine, con la tenacia però della formica. Quindi un operatore che è capace nel ruolo e nel rispetto di una struttura che c'è sempre, che dà sempre un ordine, anche se sempre si trasforma, essere capaci dentro il proprio ruolo di introdurre elementi di intraprendenza. Non uso la parola di imprenditorialità perché sarebbe equivoca. L'imprenditorialità è un termine che ha a che fare anche con uno status. Ma l'intraprendenza e la condizione perché ciò accada è che le organizzazioni si ripensino anche nelle loro forme e nelle loro regole interne. Di Montigny, questo è valido anche per una grande banca multicanale come Banca Mediolanum? Questo è soprattutto valido per una grande banca, non so per le altre, ma certamente per noi. Noi abbiamo messo l'uomo proprio al centro di tutto il nostro modello di business. Abbiamo esaltato, fin esasperando, tutta la componente di natura tecnologica, senza però mai dimenticare quello che è il reale motore di ciò che rende tutto ciò che stiamo facendo possibile, che è appunto l'uomo. E per l'uomo intendo dalle persone che lavorano nel back office piuttosto che a quelle persone che virtualmente, perché fisicamente non sono incontrabili, lavorano ad esempio al call center, che risulta essere uno dei più efficaci che abbiamo in Italia, almeno nel nostro settore. Ma soprattutto poi le persone che quotidianamente ci rappresentano nel contatto col mondo esterno, che sono tutti i nostri ragazzi, che sono quei famosi 5.000 che proiettati potrebbero essere molto presto il doppio. Mi aiuti a capire e a far capire che ci segue da casa o dall'ufficio che cosa è veramente la formazione? Qualcuno si immagina un po' di intervento, o anzi tanto intervento psicologico motivazionale, un po' di intervento sul know-how operativo. Insomma, ci aiuta a capire che cosa fate voi quando fate formazione a chi lavora in una banca? Sì, io rispondo per noi, perché comunque all'interno del nostro modello, anche per quanto concerne la formazione, abbiamo cercato di strutturarci di un qualche cosa che riteniamo non necessariamente all'avanguardia, ma almeno innovativo. Io arrivo proprio da pochissimi giorni da un viaggio negli Stati Uniti e ho incontrato che si ritengono magari insieme al Giappone uno dei paesi più sensibili all'avanguardia per quanto riguarda gli orizzonti formativi, almeno a livello delle grandi organizzazioni. In realtà non si parla di formazione negli Stati Uniti, negli Stati Uniti si parla di educazione, si parla di apprendimento, si parla di addestramento, ma soprattutto si parla di appunto apprendimento. Per cui se magari il professore è reso felice da questa citazione, noi amiamo molto ispirarci all'etimologia delle parole. Formazione, al di là di entrare nello specifico, è proprio dare una forma. Però per poter dare la forma ci vuole un leader che dia un insegnamento, che quindi lascia il segno e ci siano delle persone che possano essere educate, orientate. Sicché noi cerchiamo di tenere sotto il grande tetto della formazione un significato di essere molto più ampio. Ripeto, educazione, pedagogia, addestramento, cercando di mettere le persone alla condizione di tirar fuori il meglio di quello che possono. Ex ducere. Lei ha citato un attimo il professore, da cui torno per capire se esiste la possibilità di tracciare una linea di demarcazione fra la formazione e l'addestramento. L'ha citato Montigny poco fa. Ma in termini molto metaforici potremmo dire che la formazione serve soprattutto per svuotare, per espatriare dai luoghi comuni, dalle abitudini. Almeno per l'adulto questa è la difficoltà più grossa. L'azione formativa è un aiuto alla persona perché si metta in movimento, si rimetta in movimento. L'addestramento invece è un'operazione giusta, legittima, necessaria di riempimento. Ti do delle conoscenze, ti do delle tecnologie e a proposito del termine e della, diciamo così, di ciò che la parola stessa suggerisce, la parola formazione contiene il dare forma, ma anche la parola azione. dare forma dall'idea di qualcosa che si conclude.